Sto accontentando, dov'è il ragazzo che vuole il triangolo? Anche se non vuoi farlo con me. Però sulle mani, sulle mani! Con me! L'indirizzo ce l'ho, rindracciarti non è un problema, ti telefonerò. Tienilo qui Antonio. Ti offrirò una serata a strada, poi non voleva fare, poi non lo sai, poi io sono ambiguo. Quattro dischi, un po' di wiki, sarò grande, vedrai, ma mi spazio e dopo a dirai. Che maschio sei? Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo, mi spieghi quale? Io volevo incontrarti da solo. Semmai! Mentre lei... Lei chi? Lei chi è? Lei chi? Lei chi è? Già è difficile farlo con te. Trovalo! Lui dov'è? Lui non c'è! Lui com'è? È distrotto ma è certo di troppo. Cerchelo! Nel tavolo sai? Come vai? Quale eventualità? Cerca il drone, non so. Trovarmi una. Guarda, io non vedo l'ora qui. Vado al mister. Ma ecco, vedi, che mi è capito. L'atteggiamento che dovrò adottare. Mentre io rischierei... Ma va a controllare, controlla. ...di trovarmi al buio fra le braccia a lei. Ma no, no, no. Non è il mio tipo. Le mani al tempo tutti capriamo? Lui chi è? Su! Su! Oh! Come vado? Ma non c'è cosa provo sulla sedia? Si potrebbe vedere? Si potrebbe inventare. Si potrebbe rubare. Vediamo qua cosa si dice. Posso vedere? Lui chi è? L'hai provato? Lui come... Lui come... Lui come... No? Ballaro! Il trianfo volo, che l'ha provato. Molto spedio, che si è abbraccato. Non l'avevo considerato. D'accordo, ci proverò. La gioventria non è un reato. Garantisci per lui. Per questo amore è un po' isolato. Mentre io rischierei. Ma il triangolo... Io lo rifarei. Perché no? Lo rifarei. Tutti! Lui chi è? Lui chi è? No, 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 no. Lui chi è? 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 Lui non sepa perché. Lui dov'è? Lui chi è? Che vuoi fare in questo? No! Nostra geometria. E' lui il capo. E' lei? Lui, noi lo rifarei. E' lei? Di andiamo formula. No! C'è un ospite che vuole esibirsi una performance. Dov'è Daniele? Dov'è Daniele? Facciamo un applauso a Daniele. Un applauso a Daniele! Magari trovo, Maria, magari trovo il mio sostituto. Eh, per le sperate, chissà. Oh, ah, madonna, neanche salgono sul palco che già mi tolgono gli strumenti dal... Guarda, c'è, dico... Ti posso fare tutto quello che voglio? No, no. Madonna! Ah, ti aiuto. No, lo lasciamo qui il palco.